ed ecco con un altro video io sono Issam e oggi vediamo il gps action remote dell'insta 360 che è un aggeggio molto utile in questo video infatti vedremo per che cosa utile come funziona e quanto facile utilizzarlo ma se mi vedi così entusiasta in realtà è perché questo aggeggino costerebbe circa 93 euro ma oggi te lo regalano con l'acquisto di un insta 360 x3 tramite il link che ti lascio nella descrizione del video quindi 93 euro gratis perché cosa è utile questo aggeggio con uno schermo così luminoso che in realtà dovrei abbassare tantissimo l'esposizione della telecamera per vederlo perché è molto luminoso beh essendo un telecomando fa la funzione da telecomando quindi se schiaccio il bottone qua come puoi notare adesso sto registrando con questa telecamera spengo facile fino a qui molto semplice molto intuitivo ma adesso come puoi notare il telecomando collegato con tre telecamere e adesso se schiaccio il bottone di accensione e spegnimento del telecomando guarda come comando tutte e tre le telecamere accendo lo schermo spengo lo schermo accendo lo schermo spengo lo schermo ma soprattutto se sono lontano sto filmando con due telecamere o tre telecamere che siano la one rs la x2 la x3 o qua per esempio la one rs 360 come puoi notare schiaccio il bottone iniziano tutte e tre a filmare contemporaneamente come vedi quindi il video inizia tutto contemporaneamente insieme posso sincronizzarlo in post posso utilizzare una telecamera parlare con una parlare con l'altra schiaccio il bottone fermo tutte e tre addirittura posso spegnere sì lo schermo ma potrei anche spegnere direttamente le telecamere tenendo premuto come vedi tutte e tre le telecamere si spengono totalmente posso anche riaccendere tutte le telecamere tramite il telecomando con la funzione a oe camera che però come puoi notare ne accende solamente una perché per farlo dovresti andare nelle opzioni e dirgli di tenere attivo il bluetooth wake up ovviamente se hai bisogno di questa funzione puoi attivarla ma se non hai bisogno ti consiglio di disattivarla perché manterrebbe il bluetooth acceso anche a telecamera spenta ovviamente essendo bluetooth 5 consuma davvero molto poco ma comunque ti scaricherebbe pian piano la batteria chiamandosi gps action remote non è solamente un telecomando per accendere e spegnere la telecamera e comandarla e adesso vedremo anche che cosa possiamo fare oltre ad accendere e spegnere ma volevo parlarti anche del gps perché potresti metterlo direttamente tramite le due cinghiette in dotazione o sul tuo braccio o anche sul selfie stick o anche su un manubrio di una bicicletta di una moto di qualsiasi cosa di una barca anche perché impermeabile ipx 8 sott'acqua quindi fino a 5 metri dunque quindi si è impermeabile però dovrai utilizzare comunque prevalentemente sopra l'acqua una volta collegato con la telecamera registra sulla micro sd assieme al video anche tanti dati che sono molto facili da recuperare e leggere ma soprattutto sono tanto 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 facili da imprimire sullo schermo all'interno del video sia utilizzando l'app insta 360 ma anche utilizzando l'applicazione per pc e mac che l'insta 360 studio una volta che hai filmato con la telecamera collegata al gps basta trascinare tutti i file importarle all'interno dell'insta 360 studio vai nelle impostazioni statistiche e poi decidere di mettere la velocità per esempio l'elevazione la direzione puoi aggiungere anche la distanza percorsa la pendenza e la rotta insomma puoi scegliere di aggiungere o togliere tutto quello che vuoi puoi scegliere uno stile tra quelli predefiniti per esempio c'è questo c'è questo qui puoi spostare anche se vuoi tutti i contachilometri dove vuoi tu quindi metterli personalizzati c'è anche questo eventualmente poi andare nell'avanzata e scegliere il colore delle cose insomma puoi cambiare la dimensione l'opacità la trasparenza la rotazione e l'unità di misura da miglia all'ora a chilometri all'ora una volta finito puoi scegliere la tua angolazione e renderizzare il tutto con i parametri che hai deciso le due cinghie che arrivano con il gps sono una con questo questa forma strana per appoggiarsi al selfie stick o un manubrio o qualsiasi altra cosa che ti serve però come vedi è scomoda da utilizzare così infatti si può girare così o così anche qui potresti girare a 360 gradi il telecomando a tua comodità e potresti metterlo così sul braccio come un orologio purtroppo come vedi la cinghia bracciale non è tanto larga io non ho il polso molto grosso ma in ogni caso comunque riesco ad agganciarlo stretto eppure è sull'ultimo foro sulla parte sinistra del telecomando abbiamo il bottone di accensione e spegnimento del telecomando che funge anche da accensione e spegnimento della telecamera adesso lo accendo così in questo modo una volta acceso il gps possiamo premere sul bottone di accensione e spegnimento per passare all'awaking camera quindi svegliare la telecamera direttamente mentre è spenta come puoi notare una volta collegato alla telecamera possiamo utilizzare il bottone mod per passare da una modalità all'altra molto utile anche per fare fotografia a 360 gradi dove tu non vorresti comparire nell'immagine ma se devi schiacciare il bottone per fotografare compariresti nell'immagine e potresti mettere ovviamente il timer ma qui dovresti cercare di correre molto lontana per non farti vedere invece con questo potresti farlo anche a 20 metri di distanza anche con il timer eventualmente mi viene in mente per esempio qualcuno che fa le fotografie all'interno di una casa un giardino un ufficio per un'agenzia immobiliare che lo vuole mettere in vendita ma non vuole comparire nella fotografia ecco mette la telecamera all'interno della stanza si allontana schiaccia il bottone e fa la fotografia qui sotto abbiamo il connettore di ricarica usb c per quanto riguarda la durata della batteria interna del gps e di circa 10 ore bene come al solito ti lascio il link e coupon sconto non al gps perché è in regalo se hai delle domande lasciale giù nello spazio commenti nel frattempo ti saluto e ciao alla prossima ciao 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 ciao